Sostieni la cultura. Basta un click su Radio Raccontiamoci.net. Entra nella nostra community. Il salotto di Radio Raccontiamoci. Scrittori emergenti si raccontano. Il salotto di Radio Raccontiamoci. Oggi è felice di ospitare Eugenia Marino. Eugenia, con un libro, qui ci siamo sentiti prima fuori onda, io ho apprezzato la parte, cioè quello che significa proprio, a parte che si parla di un personaggio che tu penso che hai studiato da tempo. Si tratta di Ernesto De Martino, il sognatore sveglio. Io ho apprezzato questo sogno sveglio. Cosa ci racconti? Come autrice qual è il tuo racconto per arrivare a questo libro? Allora, io racconto un percorso di vita e un percorso di formazione di Ernesto De Martino che, come è scritto anche nel titolo, va dal 1930 al 1948, anno di pubblicazione di quest'opera fondamentale in tutta la sua produzione scientifica, che è appunto il mondo magico. Però, ecco, De Martino a mio avviso è stato, questa è la mia personale opinione, è stato un sognatore sveglio, effettivamente. Cioè, un sognatore perché ha immaginato mondi al di là del nostro, al di là del suo mondo occidentale, ha immaginato realtà paranormali, realtà che, come lui dice, sono possibili in altri contesti, in altri contesti culturali. Questo è molto importante perché noi stiamo parlando di un antropologo culturale, cioè non di un antropologo in generale, perché spesso quando si parla di antropologo si intende l'antropologo fisico, invece parliamo di un antropologo culturale. E poi sveglio perché? Perché ha mantenuto sempre la sua lucidità, cioè la sua indagine scientifica, che lo ha portato poi a delle conclusioni che lui racconta, di cui lui parla a livello teorico nel mondo magico, e che poi utilizzerà in tutte le sue opere successive, che saranno però delle ricerche sul campo. Quindi questa è l'opera teorica più importante di De Martino. Quindi questo è il punto focale, ecco, del libro. Ed è perché il titolo. Io poi volevo sapere proprio la tua storia, quella di Eugenia Marino, come racconta questo suo incontro. Cioè noi di Radio Raccontiamoci amiamo trasformare un po' le storie in racconti. Quindi immaginare la tua vita che a un certo punto incontra. Da una parte un personaggio, visto che ho letto il tuo curriculum, te ne sei occupata anche di tempi universitari, no? Sì, sì, sì. È una passione che è sin dai tempi universitari, ma la mia passione è stata innanzitutto per l'antropologia culturale, come disciplina scientifica che... Perché sei un'antropologa poi, diciamo. Vabbè, attualmente, purtroppo, ecco, devo dire che purtroppo in Italia fare l'antropologo è molto difficile. Quindi o si è parenti di qualche professore universitario, diciamolo, di qualche professore universitario per cui uno entra all'università e insegna, oppure, non lo so, insomma, io conosco pochi casi di persone che sono riuscite a insegnare antropologia all'università, oppure al di fuori dell'università veramente è molto difficile, cioè, non esistono realtà in cui l'antropologia venga applicata, anche se, a mio avviso, ce ne sarebbe molto bisogno, perché l'antropologia, come dicevo prima, l'antropologia culturale studia le culture diverse dalla nostra, tutte le culture esistenti nel mondo e con tutto il fenomeno dell'immigrazione che noi abbiamo attualmente, ormai da tanto tempo, avremmo veramente bisogno delle direttive dell'antropologia culturale. Veramente questo lo penso con tutta onestà, indipendentemente dalla mia passione. Io penso che in Italia le persone in generale non sanno neanche che cosa sia l'antropologia culturale e questo è davvero, diciamo, esprime una certa povertà a livello intellettuale, perché esprime anche il fatto che noi non siamo consapevoli della nostra, della cultura, del concetto di cultura, perché noi quando parliamo di cultura ci riferiamo generalmente ai libri che abbiamo letto, alla nostra formazione, ai nostri interessi intellettuali. In realtà questa è una accezione del termine cultura, ma poi ce n'è un'altra che è l'accezione proprio antropologica, che è appunto l'insieme di valori, di credenze, di abitudini, di costumi, diciamo, per capirci. questa è un, diciamo, una definizione che si rifà un po' a Tyler, che è quello che, quell'antropologo che ha, diciamo, espresso in maniera più esplicita il concetto di cultura nel 1871, nel lontano 1871, in questa sua opera, Primitive Culture. e questo è un antropologo che viene considerato da tutti gli antropologi, colui che ha espresso in maniera, appunto, come dicevo prima, è una cosa che condividono, è una, diciamo, opinione diffusa dal punto di vista degli antropologi, di considerare la sua definizione quella che viene, diciamo, adottata un po' da tutti ormai, anche se di definizione ce ne sono state tante nel corso della storia dell'antropologia culturale. Quindi voglio sottolineare quanto noi non sappiamo che cosa sia la cultura sotto il profilo antropologico, cioè noi non sappiamo che, del perché, per esempio, nella nostra cultura gli uomini portino i capelli corti e le donne i capelli lunghi, ce lo siamo mai chiesto questo? No, difficilmente ce lo chiediamo. Adesso ci devi dare la risposta. No, questo specifico aspetto non ti so rispondere, su questo specifico aspetto, però ti posso dire che, per esempio, c'è una cosa che si chiama etnocentrismo, una cosa, un concetto di cui si è occupato anche De Martino che a me ha sempre molto affascinato dell'antropologia che è l'etnocentrismo. L'etnocentrismo è cos'è? È la nostra naturale tendenza a considerare la nostra cultura migliore di tutte le altre e questa è una cosa che, come diceva anche De Martino, crede è tutto naturale, non è una cosa che ci deve far sentire in colpa se noi andiamo in Thailandia o in un paese asiatico e vediamo che mangiano gli insetti o diciamo animali che per noi sono soltanto animali che danno fastidio e naturale dire molto migliore la cucina italiana questo è il tuo nome però ciò che invece ci suggerisce De Martino è qualcosa di un po' diverso cioè l'etnocentrismo critico cioè nel momento in cui la società occidentale è stata in grado di essere consapevole di questa attitudine di questo atteggiamento mentale direi può l'uomo l'uomo occidentale può anche metterla in discussione cioè esserne consapevole quindi nel momento in cui ne è consapevole può prenderne distanze e valutare le altre culture in maniera più libera diversa e non così direi anche etnocentrica o forse anche egocentrica mi sarebbe da dire con un senso più picco con l'idea proprio della criticità come dialogo come portare un senso positivo esatto un senso positivo esatto come per portare alla ribalta alcuni aspetti e metterli a confronto con altri ma è una criticità che diciamo non 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 dà giudizi ma serve a capire allora mi viene in mente io ho un concetto anche io un po' particolare della cultura tanto che in radio raccontiamoci abbiamo organizzato anche una rubrica che si chiama il sapere sociale cioè penso proprio che derivi anche da quelle cose che noi sappiamo mettiamo in campo ogni giorno e insegniamo anche involontariamente agli altri cioè c'è un sapere sociale che è un sapere diffuso e questo ci permette di crescere quando riusciamo a riconoscere una diffusione proprio di questo di sapere sì sì ma il tuo libro è affascinante già entrando nel nel sottotitolo perché già il titolo è bellissimo Ernesto De Martino il sognatore sveglio e poi cominciamo a affascinarci perché dalla metapsichica alla psichiatria e già qui uno dice luce e ombre del mondo magico e negli scritti preparatori poi io so che De Martino effettivamente nel suo studio antropologico ha inserito anche questo del mondo magico perché noi abbiamo una visione del mondo anche magica c'è anche una visione psicologica del bambino che in un certo periodo della sua vita ha una visione magica quando crediamo che tutto sia possibile ma poi forse continuiamo a credere in questo mondo magico sì anche se devo precisare una cosa cioè che nel mondo magico è riferito al titolo dell'opera di De Martino che si chiama proprio il mondo magico qui spiegare il mondo magico è abbastanza è un discorso piuttosto articolato magari io parto un attimo dalla metapsichica alla psichiatria no? perché De Martino è partito dagli interessi per la metapsichica che sostanzialmente è ciò che oggi noi chiamiamo parapsicologia e che all'epoca in cui De Martino ha fatto le sue ricerche iniziali si chiamava metapsichica quindi direi per intenderci il paranormale tutto ciò che ha a che fare con i poteri paranormali lui è partito da lì per poi arrivare ti fermo un secondo perché così facciamo andiamo proprio terra a terra perché siamo agli inizi del novecento diciamo 1930 quando si parlava di tavolini di sedute cioè è quel mondo lì esatto esattamente c'era anche D'Annunzio che ne parlava cioè diciamo che faceva parte anche della cultura questo tipo di studio parapsicologico poi c'erano i grandi russi cioè ci sono in quel momento lì si sviluppa una letteratura particolare del mondo della parapsicologia del fenomeno paranormale sì esattamente però De Martino fece parte di una società che si chiamava la SIM società italiana di metapsichica che diciamo intendeva svolgere queste ricerche nel campo del paranormale in maniera scientifica cioè in maniera molto corretta sotto il profilo metodologico per cui noi troviamo in questa società considera che io sono entrata in contatto con tu sicuramente conoscerai il professore Emilio Servadio ormai che non c'è più che è uno psicanalista molto molto famoso che ha fondato insieme ad altri studiosi questa società e io l'ho dovuto contattare perché ho cercato di reperire del materiale pubblicato dagli studiosi che facevano parte di questa società e lui era tra i pochissimi ancora viventi all'epoca era anzianissimo quando io l'ho contattato però è stato di una gentilezza estrema a livello telefonico mi ha risposto lui senza avere segretari e nessuno mi ha scritto e mi ha scritto che in effetti purtroppo tutte le pubblicazioni tranne un paio sono andate al macero della Sim quindi purtroppo non disponiamo di questa documentazione però di un paio di cose un paio di cose le abbiamo in particolare abbiamo un articolo che io ho citato il problema di metapsichica in cui scrive sia De Martino che diciamo un altro studioso che io ho nominato in questo libro che però era che si chiama Ernesto Bozzano che però faceva parte del versante spiritistico direi cioè non era parte di quella società che tendeva a svolgere le ricerche in maniera scientifica loro avevano addirittura degli strumenti ecco per controllare se un fenomeno era corretto cioè se era vero se una persona diceva che vedeva un oggetto volare loro avevano degli strumenti per intercettare il fatto se quell'oggetto esistesse realmente allora De Martino è partito da questi studi poi ha fatto tutto un percorso di come dire di si è posto una serie di domande che io esprimo nel libro cioè questi fenomeni che noi vediamo così di frequente nelle società cosiddette primitive esistono realmente oppure sono il frutto dell'arte truffaldina di alcuni personaggi che troviamo in quelle società e lui arriva poi alla conclusione utilizzando anche la psichiatria comunque anche ecco sottolineo non solo la psichiatria ma anche la psichiatria in particolare la psichiatria le teorie psichiatriche di Pierre Jeunet che lo ha influenzato moltissimo arriverà ad elaborare il suo concetto di il suo concetto di magia la sua teoria della magia e quindi quando noi parliamo di mondo magico che è il titolo io l'ho messo perché appunto ho voluto sottolineare il percorso che io ho fatto seguendo gli studi di De Martino il mondo magico è sostanzialmente scusa sostanzialmente il mondo delle società cosiddette primitive e delle società contadine cioè il mondo in cui i fenomeni paranormali possiamo considerarli possibili perché appartengono a una realtà che è diversa dalla nostra questo è quello che bisogna sottolineare esistono dei meccanismi in cui la persona che soffre in quel in quel tipo di società la persona che si trova in una condizione di particolare difficoltà perde la propria presenza nel mondo quindi cioè che presenza che non è ben radicata come la nostra che apparteniamo a una società avanzata tecnologicamente almeno avanzata possiamo dire perché avanzata forse per certi aspetti no oggi spesso aprirebbe anche tutto un mondo perché oggi tanto di scienza e di conoscenza scientifica siamo in un momento difficile della storia certo certo però se noi analizziamo effettivamente le evidenze scientifiche cioè ci stiamo comportando a volte senza considerare proprio le evidenze scientifiche stiamo riandando a tentoni per molte cose il magico forse ritornerà ci sono romanzi di fantascienza molto particolari in cui si prospetta proprio un grande ritorno del magico proprio come lo stavi sottolineando te e come l'ha studiato De Martino che fa parte delle civiltà rurali perché ci sarà probabilmente un ritorno alla ruralità quindi è interessante tanto questo studio che stai portando all'arrivata col tuo libro è interessantissimo ma la tua posizione questo libro andiamo proprio a Eugenia Marino il tuo pensiero riusciamo ad ascoltarlo in breve è qualcosa che è complesso a volte però visto che ti sei innamorata di innamorata diciamo tra virgolette è una passione per il grande filosofo e storico delle religioni poi sicuramente avrai una tua idea anche di questo mondo magico ma allora voglio premettere che la teoria di De Martino è una teoria veramente molto particolare che non a caso è rimasta per tanto tempo racchiusa nel mondo universitario per cui insomma De Martino è un intellettuale poco conosciuto al di fuori dell'ambiente universitario e quindi forse uno dei motivi è questa sua complessità diciamo del suo pensiero e particolarità quindi io non posso cioè mi è difficile dire io la penso come De Martino perché è un è un punto di vista molto molto particolare che è frutto di una dialettica cioè di un percorso suo specifico quindi io non lo posso fare mio però ecco ti posso dire che quello che io penso su cioè sicuramente io penso che sia fondamentale riuscire a rapportarsi alle altre culture perché De Martino ha studiato le altre diciamo le culture in antropologia si dice le culture altre cioè le culture diverse dalla nostra cioè è fondamentale riuscire ad adottare un punto di vista che non che sia privo del giudizio e questo lo trovo fondamentale che poi il mondo magico tu dicevi si può tornare al mondo magico beh sicuramente è importante per le nostre società occidentali mettersi in discussione e fare forse qualche passo indietro non so se ritornare al magismo ma fare qualche passo indietro e cercare di prendere il meglio anche dalle società che non sono così avanzate sotto il profilo tecnologico questo secondo me è veramente fondamentale perché ritengo così questa è la mia idea personale quindi non voglio diciamo fare nessuna affermazione come dire totalizzante ma comunque ritengo che le nostre società veramente le possiamo considerare solo tecnologicamente avanzate ma per altri aspetti umanamente non lo sono affatto a mio avviso questo è il mio punto di vista c'è anche una cosa qui però potremo anche discutere per ora mentre stavi parlando pensavo poi in fondo viviamo anche questa tecnologia un po' come magia perché noi in questo momento siamo in contatto in due mondi tu sei a Napoli io sono a Piacenza siamo molto distanti quindi questa intervista andrà poi in un altro mondo strano che è quello di internet e di cui noi non siamo coscientemente capaci conoscitori di tutto il mondo cioè non sappiamo come funziona questa telecamera che ci sta riprendendo quindi questa diventa un po' una tecnomagia probabilmente perché secondo me quando non abbiamo la padronanza completa del mezzo lo usiamo un po' come se fosse qualcosa di magico so che se tocco quel tasto lì ti si accende la telecamera ti mando il link e trovo Eugenio questo un po' è vero hai ragione sì un po' è così sono d'accordo e c'è qualcosa di magico e anzi questo è un modo molto secondo me romantico tra virgolette di vedere la tecnologia perché effettivamente è vero cioè tocchiamo un tasto io mi trovo in tempo reale in collegamento con un altro mondo cioè potremmo io potrei anche essere a New York noi potremmo ovunque e oltretutto esisteremo anche fuori dal tempo perché con queste registrazioni queste rimangono e quindi ci permette di avere una vita particolare potremmo dire allora che esiste c'è anche una magia della tecnologia questo è bellissimo io ne ho fatti studiare per me fare un passo avanti e studiare questa magia perché il nostro cervello insomma la nostra anima probabilmente ha sempre bisogno a quell'anelito al magico perché non sappiamo tutto però quello che non sappiamo per noi è magia perché se non puoi costruire certo ma non potremmo mai sapere tutto perché siamo esseri umani e esseri finiti lo diceva Alcintale un paio di migliaia di anni fa che ha avuto poi la ciputa insomma è finita Socrates con il famoso visto che siamo oggi guarda ti ringrazio anche perché hai portato l'antropologia che non è effettivamente un argomento così di moda anche se invece siamo immersi perché noi dovremmo conoscere le culture dovremmo conoscere la nostra cultura che a volte ci manca anche quello perché pensiamo che ci conosciamo ma come dovremmo conoscere anche il punto di vista culturale visto che abbiamo parlato di Re Martino delle religioni cioè perché anche quelle sono sono cultura invece le prendiamo proprio spesso soltanto come fatto trascendentale o come appartenenza quasi tifo Milan tifo una cosa o l'altra non mi faccio delle domande ma si vede che è dell'uomo moderno farsi un po' meno domande abbiamo già è vero purtroppo è così noi cerchiamo di raccontare e di farci di farci un po' di domande senti parliamo adesso proprio del libro nel senso pratico io vedo un'Europa edizioni il tuo libro è in edizione cartacea si trova anche su internet come è lo titolo? allora sicuramente sì in edizione cartacea si trova sicuramente sulle librerie online nelle librerie diciamo i negozi fisici propri sono il libro se non c'è è ordinabile e tra poco ora non so se è ancora uscito comunque uscirà sicuramente anche l'ebook quindi insomma sarà diciamo comunque reperibile anche così quindi io però ecco mi fa piacere dire che al di là del nucleo proprio centrale del libro cioè il percorso dei martiniano che io ho seguito ho cercato di ricostruire attraverso l'analisi di questi scritti preparatori al mondo magico fino ad arrivare proprio al mondo magico direi che cioè ecco c'è forse proprio da mettere a fuoco quello che dicevi tu prima il fatto che e che dicevo anche io prima il fatto che l'antropologia ci potrebbe aiutare tanti tu non sai quanto ci potrebbe aiutare l'antropologia nel rapporto con i nostri immigrati quanto potremmo essere aiutati a comprenderli e invece lasciamo andare certe discipline che magari prendono posto altre ma che invece ci sarebbero proprio utili quindi penso che le persone potrebbero essere interessate a De Martino che ripeto non è così diffuso al di fuori del mondo universitario proprio anche per questo motivo perché in fondo cioè sì il periodo che io analizzo è un periodo molto che può sembrare molto lontano nei tempi ma in realtà il discorso sulle culture è così attuale se pensiamo ai nostri immigrati che si può molto facilmente ricondurre ad oggi e sta nella capacità chiaramente del lettore di ritornare all'attualità quindi assolutamente assolutamente anche perché poi si parli di un mondo che sembra lontano ma secondo me è sempre un mondo che ha gettato cioè mentre la tecnologia sembra che ci cambi il mondo ogni tre minuti però i fondamenti cioè quello che facciamo ha una storia dietro molto 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 lunga ancora adesso infatti viviamo di una divisione anche politica che riguarda anche quegli anni di cui stavamo parlando di Martino cioè non ci siamo ancora scrollati di dosso questo tipo di divisione culturale che anche quella non ci fa un gran bene perché non ci permette di capire e di dialogare spesso con l'altro altri viene utilizzata proprio per per farci parlare ritornando al discorso per farci pensare un po' di meno perché tanto so che sto da quella parte lì lo so che sto da quella parte mentre il mondo è sempre più complesso più aumentato ma poi cioè se tu pensi anche tutti i fenomeni che ancora accadono di discriminazione razziale a cui purtroppo assistiamo molto di frequente ancora cioè se noi non abbiamo un insegnamento cioè non parlo di me di te che magari siamo qui a ragionare ma di persone che magari si permettono di far scendere una persona di colore dall'autobus cioè chiedono di scendere perché ha un colore della pelle diverso cioè quindi dobbiamo assolutamente cercare di fare qualcosa perché ormai gli immigrati fanno parte del nostro mondo cioè non è che l'immigrazione è un fenomeno temporaneo ormai sappiamo che è un fenomeno ormai strutturale ma non solo ma può essere considerato assolutamente un fenomeno di arricchimento della nostra società perché dobbiamo pensare che loro ci impoveriscono che loro tra virgolette prendono i nostri posti di lavoro ma è una cosa per me inconcepibile il pensare cioè questo punto di vista così escludente no? Dobbiamo imparare invece a relazionarci e a prendere degli insegnamenti dalle culture diverse dalla nostra oltre a come dicevi tu a diventare consapevoli della nostra cioè per esempio ti faccio un esempio io prima che ho fatto l'esempio dei capelli corti o lunghi è piaciuto perché sai io ho visto come porto i capelli non sono stato colpito no per esempio un'altra cosa che è completamente diversa cioè i sistemi di parentela che è una delle cose che in antropologia culturale si studia di più cioè noi diamo per scontato che il nostro sistema di parentela sia l'unico al mondo non è affatto così cioè o come la religione che dicevi tu però della religione sai magari alcune religioni diverse al 14esimo cui noi siamo stati quasi tutti educati comunque entrano un po' nel nostro sociale tutti i giorni cioè il non lo so il buddismo insomma un tipo di anche la religiosità laica che tu dicevi prima no la religiosità proprio nel modo di vivere invece per quanto riguarda per esempio il sistema di parentela è una cosa che insomma nessuno si chiede ma cioè io chiamo zio quella persona perché chiamo per esempio cognato è un termine che si usa sia per il non lo so per il fratello di nostro marito per esempio o per la sorella di tua moglie ad esempio sia per un altro tipo di persona cioè per un'altra un parente acquisito insomma diciamo così scusa è un po' talmente complicato il sistema di parentela che forse in questo momento mi sono un po' diciamo così imbrogliata tra virgolette insomma un po' confuso però ecco volevo semplicemente dire che certi certe realtà che fanno parte della nostra cultura noi le diamo per scontate questo è quello che voglio dire e sbagliamo perché non sono le uniche al mondo questa è la cosa importante da capire cioè sono una tra tante questa è la cosa che a me ha sempre affascinato è l'antropologia cioè è il motivo per cui io mi sono innamorata è l'antropologia perché mi ha fatto capire che io e il mio modo di vivere è uno fra tanti non è l'unico al mondo da chiudere con una battuta a volte il pensare di essere uno fra tanti può magari spaventare però voglio chiudere invece con la tua aspetta aspetta scusate ti interrompo però uno fra tanti non nel senso dispersivo anche quando so che la mia cultura non è più l'unica ma qui potremmo aprire un dibattito questa è una cosa che potrebbe un po' spaventare ma può spaventare non sono io perché come hai detto prima e come diceva anche De Martino c'è questa cultura da cui partiamo che noi riteniamo l'unica finché non scopriamo le altre e allora bisogna avere poi l'intelligenza di dire ah c'è un'altra cosa vediamo come funziona se no è destabilizzante quando scopro sempre qualcosa di diverso da me lo accetto o ne vengo un po' destabilizzato ma volevo ritornare invece sulla passione con cui tu hai scritto questo libro e qui invito i lettori perché quando un libro è scritto con passione dentro si trova anche questo il lettore sicuramente troverà anche il piacere di questa ricerca che hai fatto del libro e della vita poi racconti parecchio di Ernesto De Martino nel tuo libro quindi troverai la passione con cui stai portando avanti anche questa argomentazione noi questo dialogo che stiamo tenendo nel salotto quindi la passione e si comincerà se volete un po' capire cosa vuol dire parlare di antropologia ecco è un libro che vi consiglio perché si legge anche facilmente la passione poi si avverte assolutamente la passione sono contenta che si avverta perché c'è sicuramente ma c'è anche il desiderio di essere chiara come abbiamo detto prima fuori onda come dici tu perché diciamo il mio obiettivo il mio desiderio è stato quello di arrivare al lettore nel modo più diretto possibile più appunto limpido trasparente possibile cercando di semplificare dei concetti che indubbiamente sono abbastanza complicati però io ce l'ho messa tutta per cercare di semplificare il più possibile determinati temi che non sono facili questo è certo però penso alcune persone che quelle poche persone che per il momento hanno letto una parte del libro per fortuna mi hanno abbastanza rassicurato su questo cioè mi hanno detto che il libro comunque scritto in maniera semplice semplice ma non nel senso diminutivo del termine semplice appunto di comunicativo ecco del termine perché io come ti dicevo sono una persona che tiene moltissimo alla comunicazione trasparente diretta insomma di cose anche complicate ma bisogna cercare in tutti i modi di comunicare di essere semplici nella comunicazione e quindi spero che i lettori riescano a trovare oltre alla mia enorme passione anche questo insomma che riescano ad accostarsi a concetti che di per sé non sono semplici perché io cerco assolutamente che hai cercato di rendere di diffondere quindi Ernesto De Martino il sognatore Sveglio Europa Edizioni Eugenia Marino che è stata con noi nel salotto di Radio Raccontiamoci grazie grazie a te grazie a voi sostieni la cultura e i nuovi scrittori partecipa al sapere sociale cliccando il tasto sostieni la cultura sul sito radio raccontiamoci punto net e farai parte anche tu di una vera community culturale